ok registrazione partita registrazione partita raga bella bella e che invicio avete voi cos'è e tutti che puntano qualcuno punta sotto su di me tanto sapete che perdo tutti i soldi recuperati no? soldi spesi per bene cos'è parto addirittura quasi primo? io devo dare, io devo dare un po' di macchina eh macchina nuova eh macchina nuova con tutti qualcuno me li è passati i big money eh eh hai preso una super ora no? più di una ragazzo perchè non rallega un più me il culato perché l'altra volta ti mi ricordo Andrea spero che andranno a funchi ma proprio di pesante eh non so ho voglia di affunghi tutti affunghi siamo andati io me li fumo i funchi no non mi spingere non mi spingere piuttosto pazza ma non spingere mi ricordi mi ricordi mi ricordi quando avevo fatto la macchina mi ricordi di me ah vangulo sti pali sono quasi ultimo sono quasi ultimo cazzo e non sei contento poverino chi è quello che erano? aiuto dai ti metti nel giro di ultimo ma porca io non arriverò mai no vai non ultimo oh c'è uno c'è uno che si è ribaltato chi è terzo? il primo non ti giro non ti giro sono primo due due madonna ma sta macchina è difficile da controllare è troppo leggera beh il primo è tanto stavo pensando di prendere la ps3 poi arriva a che mi chi online ovviamente non spegnerò mai finché ci sta lui addirittura no non spegnerò mai indecisarai non spegnerò ma poi è bravo eh che andrea ragioni non mi faccia veramente mi faccia veramente uuhuu c'è uno che ma io spero la prima esploda la macchina allora tu un po' veloce dai 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 io mi annoio perchè sono primo a un chilometro davanti di quello e allora mi annoio spero che ti esplode la macchina andrea vi vi voglio dire andate a spessare ad andrea lo voglio amato ti e fare lo calcio ti e fare la macchina oddio non mi tocca mi... aiuto nooo tui due cazzo che è stato per poco cavolo non te ne aggiungo chi è questo qui che sta davanti eh io primate ciao non fammi spingere dai veramente ma chi mi spinge primate no lo so andrea muri lai ti prenderò ti ucciderò madonna quant'è lenta la mia macchina vai primate bella tutta perchè non hai ancora sbloccato le motifiche eh la voglia eh ma no ma che ti dice sempre vinci almeno vinci gare vinci gare non vincolo mai ahahahah no sono volato il problema è che cazzo che è quello che è nooo sono andato a funghi sono andato vabbè poi me ne porti un po' va bene eeeh 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 non morivo io no ma come cazzo ottimo mio amico veramente che te la fa guarda lo funziona pure i testmatch quella cosa la farò ovvio però non faccio i testmatch ma porca quella cosa l'immortalità 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 fammi parlare l'immortalità dura dura solo un gioco andrea fatti prendere madonna si ti prendo così faccio è che sono così stupida fammi prendere l'immortalità un po' nuova faccia è un angoletto con i remake niente io io con la entity proprio non mi ci trovo è troppo leggera nooo era buona l'entity è una buona attrazione eeeh ma è troppo leggera vola 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 troppo cazzo di ti so secondo da tre ore andrea di morire spero che prenderai una macchina 200 euro con un tale e muori e hai l'atturità frappre ma guarda la macchina non ce ne entra non ce ne entra non ce ne entra devi tre fare lo vedo lo vedo lo vedo prendi la macchina non te nemmeno il traffico se lo vuoi che prendi nooo nooo spero che prendi un palo quanto sei terzo non sono così stupido come te a prendere un palo gli altri degli altri li abbiamo seminati tipo di 2 km no ma a me la mia macchina è strana io perchè sono andato a funchi sennò stavo dietro e vabbè io prima che stavo dietro io eh i funchi sono buoni ma non so la mia macchina la mia è andata in testa coda da solo poco fa non so come ha fatto nooo son volato via poco che ne so è in effetti è vero che l'entity è troppo leggera nooo nooo invece invece la è bella pesante di due secondi dopo ma l'affanculo sto arrivando sto arrivando livello 81 livello 81 livello 81 eccomi combattig passes tele accesso dio patovic bio стр adolfatti livello 89 livello 81 livello 81 ripnesso m guarda 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 3 decimi di seconda dopo 3 perchè maledetto poi il giro più veloce l'ho fatto pure io perchè voi ho fatto 238 dai 238 che bello no mi sono preso il più botta di proiettile ma che roba è ma questo è razzissimo è maledizione non li ha scattato a lui dai mettete pronto raga io ho fatto io sono sempre pronto anch'io siamo nati pronti noi il problema è che io ho preso i posti di proiettile cosa che non voglio prendere perchè non ha senso prenderla non lo posso prendere io no a parte che si trova in mezzo al batmack non ha senso bene da solo partito toglierlo oddio quello con la minica oh oh se siamo prima tolgo il giubbotto beh prima tolgo il giubbotto vorrei qualche arma più decente devo vedere se ne ho sbloccata qualcuna io seguo un po' la comitiva vediamo che cosa troviamo io seguo un po' la comitiva dai e c'è uno con lo stemma della crew qualcuno ha raccolto il testosterone qualcuno ha raccolto il testosterone che c'è che c'è 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 da c'è da da stare in pena qua ah no quelli suoi amici ma la dove sono i nemici aia aia l'abbiamo trivellato orca boia dai e com'è che io non vedo nessuno ah ce n'è uno qua cacchio no dai ma vai l'ho pure visto per primo ho sparato per primo e muoio per primo qualcuno ha bussato al campanello cioè qualcuno ha suonato il campanello ha bussato al campanello quello con l'ancio a raggio è tranquillo per i fatti suoi aiaiaia com'è che muoio cioè ho il tizio davanti a me e muoio io danni troppi chi è quello? mi sto a preoccupare mi sto a preoccupare oh yeah è vuoi ok qua è un po' pericoloso è uscito Nick ma proprio ne sei anche felice e lo fanno tutti i giorni c'è Babbo Natale morto speria di morto mi è passato uno davanti no dai c'è con un fungo mi ha ammazzato che cazzo eh sono appena rinato e sono morto all'istante non so come serie di morti niente di buono e va a fare un culo e te pareva poi con la mia mira super fantastica eh a me mi dovete dare il mouse non il gamepad oh era ora do cacchio sto andando non lo so ok qua ce n'è uno dei nostri ma che cazzo sto a fa' cosa cavolo fa' ma che cazzo fa' il mio personaggio chi era quello Babbo Natale forse e te pareva ah proprio dura eh ce n'è uno qua sopra vediamo se lo becchiamo a questo eccolo eccolo ma dai ah accidenti raga dura si ah ciò ho tanti sbirro ma porca mi vado sempre a incastrare da qualche parte Dov'è cavolo si va a riparare il mio personaggio Oh era ora che ne ammazzavo uno Ecco la cosa che stiamo facendo fare Madonna E' bella si cavolo Avete colpi micidiali Ho fatto scoppiare la macchina Vai e corri Cazzo che me spada Ma dai Ma dai L'ultimo minuto Ho il cavolo che lo becco C'ho proprio bisogno di un'arma più decente Questo cavolo di coso non me fa niente di che Ne ho ucciso uno Eh va e ne ho beccato pure io uno R Quei racconto Accoppiati lanci arrazi proprio Vai 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 vieni viii vibi Ar proporzani ve dicono Dicono Burte Quato No sono ucciso si 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 l'ho ucciso la pure io ho beccato a te eppure io t'ho beccato almeno dove sono? una granata in testa almeno, ma quelli non avevano armi ma quelli che soffermano amiche portati 12.000 euro inizia 5.500 euro non ci posso credere e poi sembra che uno non moriva sembra boh non lo so raga veniamo no 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 sono morti sono morti che ero mortale eh si si guarda 22 uccisioni ho fatto io su 23 di quell'altro pensavo di essere andato peggio tutto sommato sono arrivato quarto io primo io sempre primo nella squadra dove faccio il deathmatch sempre primo ma che beccato ma non ce la farò mai eh la sfiga che porca miseria mi sa che ne avete perso anche uno voi e vai si parte madò che è successo? ok ho visto uno che se n'era andato stavo vedendo la tv in diagonale pensavo che era mica sperando ok prendete la mica mica e che prendiamo? ok è già scoppiato tutto ma mi prendo il carro va a sto punto che sta succedere? dai li schiaccio tutti dai WTF dove si trovano? dai di che cazzo ce l'hai fatto sto carro amato? e vai c'è qualcuno che mi insegue mi sa che è meglio per me se me ne vuoi ooo l'ho cancellato faccio il giro va meglio essere sicuri oh 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 è morto di nuovo è morto di nuovo dai sempre è morto ecc è morto? è morto è morto è morto dai che mi diverto che cazzo non c'è la questa è bella abbiamo proprio ma che mi spara a me aia 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 madonna ma è dei nostri questo io che gli sparavo aia che casino questa l'abbiamo proprio vinta come si deve ah ma questo è dei nostri e che cavolo finchè non vedi il nome come si deve ops scusa cazzo oddio lolle è facile scambiare i nemici per amici questo di fatto è amico dove sono i nemici non li vedo mica oh addirittura dove sono dove si trovano non vedo più nessuno in giro ah 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 distruggiamo quel carro che è poco di tranquillo ancora per quattro minuti ne abbiamo c'è un carro lì perché non se lo prendono dove dove fai alex alex prenditi il carro no anzi quasi quasi mi prendo questo qua davanti che è meglio di quello che c'ho adesso oh spi sbrigate no ma che fa non sale affanculo non sale ah ho capito quello della squadra avversaria non si può prendere ma sai che mi faccia ammazzare così ah dove cavolo sono finiti gli altri oh ah ma stanno a combattere di la mi sa vediamo si mi sa che stanno combattendo dall'altro lato andiamo un po' a vedere ero qui che aspettavo e tutti e loro se ne vanno da un'altra parte andiamo dall'altra parte oh che ti suoni oh che ti suoni ci siamo ma dove cavolo sono non sto a riuscire a capire dove si trovano i nemici ciao che peccato sono spariti tutti ok ci sarà un carro armato nemico stavolta nooo si 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 frega di montate oh il mio carro armato l'avrei dovuto cambiare cavolo oh tutto distrutto c'è poco da fa ai 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 Non lo so cazziiii... Inattivo! Ahiè! Ma che cazzo fai?! EH?! Non ci credo! Mamma mia! Ho un po' pregato in carri armato! Eh, è stata una bella sfida eh! E facciamo! No, no, basta! No, no, ammettilo che ho fatto tutto in carri armato, ammettilo! Ma hai fatto da chi? Non sa come me non mi vede più? A uno che ha fatto tutti! Io, non ho dato che quel piano funziona perché cazzo, scontato! No, cambiamo assolutamente perché è stato dieci minuti un po' così noiosi. Ho abbandonato tutto. Allora, andate a dire. Ho Nick Magibbio o ho già ti basta? No, no, sto registrando. No, ok. Beh, ma va. Nick è sempre vicino a me, ma tanto poi alla fine nei test me ci non c'è mai. Questo è razzismo. Denuncerò la Rockstar con le mie mani e specialmente con i miei... Non c'è Nick, non c'è Nick tutto quanto. Ma è vero, me l'ho dimenticato, grazie per avermelo ricordato. Puntiamo 255 su Nick e 255 su Nick. Finalmente non c'è quel casino che c'era una volta, dai. C'è meno gente, c'è meno urla. Prometto che la Rockstar dovrà vedere almeno una volta la massa da baseball di questo personaggio qui, la deve vedere. Non voglio una vendetta! Ce siamo! Rockstar scappa! Scappa finché sei in tempo! Se parte! Non è l'ultimo! Nick! Uuuuh! Di impennata! C'è Andrea? Chi sta Andrea? No, non c'è, non c'è, tranquillo, non c'è Andrea. Oh, cazzo, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Banzai! Non ne fate parlare perché veramente potrei fare battire mezzo mondo. No, no! Non capisare! Ma chi è che ha messo bagnato? Ma è coglione potente, però! Eh, che big the ass è così! Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è! No, 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 no! No, no, no! Dai, eh! E' bene, no! Sono solo quarto, dai, non è poi così brutto! Io sopprime! Vabbè, finché Nick sta sul podio, c'è una cosa molto interessante! Vero! No, no, brutto idiota che non sono altro! Non so neanche come mi sono salvato! Non lo so neanche io! Oddio! Ma chi è questo? Chi è il disco pazzolide? Drogato, oltretutto! Grepa, vattene! Se lo vincerebbe! Oh, sei andato da solo, perché glielo ho chiesto! Invece di più! No, eccolo! Trimeggio è primo! Oh, mi ha fatto il dito medio, se lo faccio io il dito medio, bastardo! Vieni qua, pezzo di merda! Non vuoi farlo! Vieni, ti ammazzo! Permesso! Non puoi svitare gli assassini, ragazzi! Mai svitare gli assassini, porca! Suttarvi di qua! Sono spinto! Stai recuperando terreno! Sono terzo! Quello non stai recuperando terreno, stai recuperando la luce, nel bosa! Quello stai recuperando! Dai, quel giorno di boschi, raga! Prendete i funghi, mi raccomando! Ma, porca puttana! Sono una montagnosa! Ehi, dimmi! Ho sbagliato! Non ho preso il checkpoint, porca puttana! Stupidi panni! No, ecco, addio, gara, è che colpito, secondo me! Questo domenica, finora! Addio, la gara, è un bella, sicuro, porca! C'è uno che si chiama, Cappio là, un tipo di Cappio! eh sono quarto terzo sto a combattere col terzo sono arrivato terzo sono arrivato terzo per culo io sono primo dai facciamo una gara normale dai che dite famose ma eh non fatti già due o tre nel suo stanco di sti deathmatch va bene una gara dai facciamo un'altra gara? si però con le macchie basta basta che non sia bagnato quanto adesso perchè veramente non lo so già sarà più di un'ora che registro ma devo fare tanti tagli eh devo fare tanti tagli eh devo fare tagli che è crashato qua e crashato la non tagliare quando arrivo io però eh non tagliare quando arrivo io ah no se tu arrivi prima io taglio ah comunque eh magari meglio che tagli Andrea quando vince taglialo ma non c'è Andrea no no prima c'era ha vinto lui la gara quindi taglia quel pezzo mi raccomando ahahah ahahah germai lo metti da nero sono avvenzato il momento da vince vediamo un po dai che cosa abbiamo so c'era una guerra tra me e lui perchè ho detto questa cosa facciamo aggiorna ok no il re del drift ok io so drittare alla perfezione Michelino è offline perchè li ha crashato all'ultima potenza aspetta il re del drift eh figo non l'ho mai fatto facciamolo dai facciamo il re del drift eh però non lo vuota nessuno adesso si beh si dai guardate come dici tu e vuotano tutti più o meno eh qualcuno lo toglie qualcuno lo mette eh non l'ho mai provato so curioso neanche io non l'ho mai visto sperando siano macchine si ne manca uno è meglio che Zalla cominci da pensare eh Antonio vota Antonio vota Antonio 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 affunghi non mi piace che non voterà mai mi rimarrò qua a vita cercando di fare una gara col Nick eh morirò qua ma Antonio muoviti prima che mi impicco eh dai si non ha volato comunque allora vediamo un po' com'è sto drift beh speriamo che al posto sia qualcuno di che conosciamo e che non siano talebani o cinesi o africani o qualsiasi tipo di di persona che sia a cuore dall'Italia sta caricando forse c'è Michelino che ha provato a tornare su GTA ma li ha crashato di nuovo mamma mia che spiega ok ancora lui è lì è l'host perfetto ma aspetto già che piova come un accidente no non mettere un'host metti giorno che già che il drift poi è difficile poi gli metti due notte non si vede niente vabbè il drift lo so fare però peccato non c'è oh allora questo italiano questo capisce hai certo che capisce ma meglio così vediamo se ne viene un altro o due sapete che staranno facendo i botti di capodanno cosa che farò pure io dopo io lo farò pure dopo ma in modo più bestiale possibile con più botti che trovo tutti i botti che trovo tutti starò tutti semplicemente il Zeus che ho comprato sta entrando lentamente ma entra ecco ce ne siamo no non arriverò sicuramente comunque appunto su di te no eh 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 punterò sempre non ci sarà un video dove non punterò eh vuol dire che te la passi bene comunque mi sembra stanno sta cosa del drift e poi alla fine io di drift qua non ci vedo niente macchine normali no secondo me ho capito che praticamente aspettate prima puntiamo su di nick perché se no ci dimentichiamo certo non ti va mai che mi dimentichi perché no è un casino perché questi qua sono container qui ci sono tutte strade tipo a incrocio quindi qua secondo me c'è una gara qua dentro ah ok no perché diciamo che sto gioco per drift non è proprio il massimo ecco ahahah driftare non è proprio semplice io lo faccio soltanto io lo faccio soltanto in città perché è facile qua non lo voglio neanche scoprire quanto è difficile eh certo ci siamo secondo me è meglio che io freno piuttosto del drift forza si parte vediamo un po' se il drift com'è ma è meglio non driftare perché si perde velocità io sto solo a lento vabbè prima devo capire com'è vediamo un po' oh cazzo non mi piace parto pure per ultimo oh no è orribile questo oddio è spaventoso cazzo qui se sbaglia vai in acqua oh Antonio Antonio non c'è rimasto fermo nella pista ma è meglio uno che abbiamo superato sicuramente è lui guarda come si deve guidare mamma mia non si capisce assolutamente niente ah una ha provato a driftare è morto guarda questo questo è il culo no aiuto Andrea che cazzo chiamo sul telefono mentre guido poi dai io so secondo ma c'è il primo che veramente non so come fa peggio di mai costruito e poverino lui che è all'ospedale ah si è vero poi gli scesi ma io non sapevo neanche che sciava senti Andrea non rompere mentre si intriciò Antonio l'ho doppiato perché stava fermo a traguardo è ovvio che l'abbiamo doppiato è fermo là c'è un cazzino praticamente sono ultimo che è figato no ultimo proprio no io sto andando più veloce possibile senza schiandarmi neanche una volta e non riesco a prenderla ancora ma che cosa ha quella quella non ha una macchina quella ha un reattore naturale eh non è facile ma questo qui scommette che la conosce bene guarda che cosa sta facendo cioè è velozio dai eh vi devo recuperare ma come fa oddio non ci riesco è troppo veloce è quasi o tre cili spero che ti schiazza almeno eh io lo so la porto a spiega molto cazzo questo che è eh sai Antonio Antonio Play mi stava per farmi schiandare di nuovo su due volte che risponde perché sta fermo che cavolo qui eh l'abbiamo spostato l'abbiamo spostato Antonio eh io sto prendo più a cura degli altri dai cazzo dai mamma mia che spalla guarda come piozza il tiro prende più quello ha vinto se non sbaglio dovrebbe dormire cazzo 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 che fai dai eh no mi si è capito no ancora cibo mi si è capito no pensavo che si era schiantata invece era solo un mare mamma mia che si schiantava ma porca eh no ha vinto cazzo ha vinto il colpino no mi ha preso pure per il culo si è fermato davanti a treguardo che bastardo che stronto mi stava aspettando lì madonna però l'ho preso in piedi e non gli ho dato in culata che yellow niente ho combattuto col terzo non ce l'ho fatta io sono arrivato secondo abbiamo perso io ho perso 5000 dollari eh beh oh i soldi i soldi vanno spesi è così eh mi chiamai e non li spendo perché sarebbe una delle cose peggiori a meno che non me lo dimentico allora questa è sfiga suprema dai ha fatto un minuto e uno beh buono va bene ragazzi io ve saluto stacco che si è fatto anche tardi ok quindi buon anno dico buon anno io stacco raga ah va bene ciao ok ciao 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 ciao